Devo dire che in altre occasioni avremmo meritato qualcosa in più, in altre partite non è stato così. Però voi sapete che ci tengo anche alla prestazione, che non è stata all'altezza del primo tempo. Nel secondo tempo è stata per me un'altra squadra, al di là del gol subito, ha un senso differente. Abbiamo perso tanti duelli, bisogna dar merito anche al Bologna che per me ha fatto una gran partita, che dal punto di vista fisico ha prevalso su di noi, erano più brillanti, arrivano prima sulla palla, vincevano tutti i duelli. Forse abbiamo pagato anche la partita col Porto, forse abbiamo pagato il fatto di aver fatto pochi cambiamenti e questo a volte quando ci sono partite dispendiose si può pagare. Questo è il contrario di tutto il calcio, specialmente qui. Per quello ti dimostra che a volte c'è la necessità di fare qualche cambio in più, quando c'è la possibilità, perché tante partite ravvicinate non ti aiutano.